contro una visione troppo pessimistica secondo la quale magari è già troppo tardi per incidere cosa possiamo dare noi cattolici per dare un po di speranza per dare un po di ottimismo e soprattutto per dare quei piccoli germi di cambiamento che possono la lunga fare la differenza tra una sfida vinta e una sfida persa ma tra i pessimisti e gli ottimisti ci sono gli uomini e le donne di buona volontà che nutrono speranza sperare significa esattamente la capacità di vedere un mondo diverso e di impegnarsi concretamente ciascuno col proprio contributo in quella direzione che pensiamo e riteniamo desiderabile è fondamentale che questo processo si radichi nelle coscienze delle persone nelle pratiche dei territori nelle trasformazioni dell'impresa ma questo processo come ci ricorda papa francesco deve cominciare adesso non si tratta di essere quindi né pessimisti né ottimisti si tratta di essere uomini di speranza cioè uomini di azione la domanda è come si può educare la complessità c'è qualche soluzione pratica si può dare l'esempio in questo caso le storie le narrazioni le sfide vincenti come possono essere narrate per che diventino esse stesse generative sì l'esemplarità importante l'esemplarità vuol dire che non è che si deve fare come ha fatto quello che vediamo l'esempio che vediamo l'esemplarità ci ispira la nostra responsabilità però l'esemplarità deve cadere su un terreno buono per stare su un'immagine evangelica qual è il terreno buono il terreno buono è rompere mettere in discussione e finalmente abbandonare l'idea individualista di cui tutti siamo imbevuti cos'è l'idea individualista pensare che ciascuno di noi esista a prescindere non è che noi dobbiamo essere bravi e prendersi cura dell'ambiente è che noi non viviamo senza l'ambiente senza gli altri noi siamo già dentro le relazioni ciascuno di noi è individuo in quanto appartiene già un mondo di relazioni sia biologiche sia sociali e questo il punto di fondo che che tocca papa francesco dove naturalmente la relazione poi si estende anche alla relazione cosmologica la relazione religiosa con dio grazie 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 grazie